Tu, tu, non sei tu? Sì, sono io. Bene. Perché tu sei da sola. Ma tu sei sempre stata, Alice. E per questo so che crederai a me. Cappellaio, mi sei mancato. Si tratta della mia famiglia, Alice. La tua famiglia? Sì, la mia famiglia è persa da tanti anni. O così pensavo. Guarda. Ho trovato questo. Il primo cappello che abbia mai fatto. Pensavo fosse stato buttato tempo fa. Era impossibile che arrivassi qui. Invece, eccolo qua. E se il mio cappello è sopravvissuto, anche la mia famiglia sarà sopravvissuta. Ma questo non... Credevo di non essere degno degli altocilindro del mio nome. Uomo molto serio, mio padre. Litigammo duramente. Non gli ho mai chiesto scusa quando potevo farlo. Ma questo vuol dire che ora potrò rimediare. Cappellaio. La tua famiglia. Tu... Tu mi credi, non è vero, Alice? Io voglio crederti. Cappellaio. Non stai bene. Che cosa posso fare? Ma certo. La mia Alice può riportare la mia famiglia da me. Ah, ma... Sai, io non credo che... Sono morti, lo sai. Tanto tempo fa... Me l'hai detto tu stesso. Nessuno può riportarli in vita. Nessuno a parte te? Mi dispiace... Ma... È impossibile. Tu... Non sei tu. Cappellaio, ti prego. Fattele. Io non so tu che sia. Non sei la mia Alice. La mia Alice mi avrebbe creduto. Cappellaio. Cappellaio, ti prego. 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 Ti prego.